Un saluto da Gerardo Paterna e ben trovati a ReTV. Quest'oggi è una puntata di particolare interesse e continuiamo a parlare di reclutamento, di reclutamento legato ad un brand importante di Engel & Falkers che stiamo seguendo da un po' di mesi in giro per l'Italia. Anche oggi infatti abbiamo in studio quindi Christophe Feikenboots, Area Manager di Engel & Falkers Italia. Ciao Christophe, grazie per essere intervenuto. Ciao Gerardo, buongiorno, grazie. E abbiamo Petra Magaglio che è License Partner di Engel & Falkers Milano. Grazie Petra, anche a te. Benissimo, allora Christophe, ti metto subito sotto i riflettori. Allora, so che avete avuto un 2016 veramente spettacolare. Ci racconti un po' com'è andata? Infatti l'anno 2016 è stato un nuovo anno record per Engel & Falkers a livello globale. Abbiamo potuto aumentare il fatturato da 410 milioni a 506 milioni di euro in commissioni e quindi abbiamo raggiunto il livello di un mezzo miliardo di euro. E poi anche in Italia abbiamo potuto realizzare una crescita importante, non soltanto importante, ma la crescita più alta nella divisione residenziale del 93% in totale. Nella divisione residenziale e commerciale in Italia abbiamo potuto aumentare il fatturato da 9,9, quindi quasi 10 milioni di euro che abbiamo realizzato nel 2015 a 18,7 milioni. E poi l'obiettivo per quest'anno, per l'anno 2017, è ambizioso come sempre. Vorremmo raggiungere 25 milioni di fatturato in commissioni. L'anno scorso, nel 2016, abbiamo anche potuto festeggiare delle inaugurazioni. La rete di Engel & Falkers è cresciuta qui in Italia. Inaugurazioni come a Brescia, a Bologna, in Sicilia, a Cefalu, a Milano, Porta Venezia, l'inaugurazione di marzo dell'anno scorso, ma anche a Merano, a Riccione, a Sanremo Imperia e a Verona abbiamo potuto festeggiare delle inaugurazioni. Anche per l'anno 2017 sono previste nuove aperture. Adesso, nei prossimi mesi, soprattutto anche a Lago Maggiore, con nuovi shop a Verbania e anche a Rona e poi a Bolzano, Galipoli, ma anche a Comaia sono previste delle inaugurazioni nei prossimi mesi. Aspetta, quindi insomma, allora, fatturato è cresciuto. Il numero di shop è cresciuto e anche il numero di agenti immobiliari che lavorano nella vostra rete. Quindi incredibile. Per il 2017 quanti agenti immobiliari stiamo cercando? Allora, per l'anno 2017 stiamo cercando 150 agenti immobiliari in tutta l'Italia. L'anno scorso abbiamo avuto una crescita significativa anche dal punto di vista degli agenti immobiliari. Da 350 siamo arrivati al numero di 450 agenti immobiliari. Senza il lavoro veramente ottimale degli agenti immobiliari, di tutti gli shop in Italia non sarebbe stato possibile raggiungere questi obiettivi di fatturato. Quindi è previsto l'inserimento di 150 agenti immobiliari per raggiungere il numero di 600 agenti immobiliari in tutta l'Italia. E questo è anche uno dei motivi per cui siamo qua oggi perché a Milano è previsto l'evento di reclutamento il 16 di marzo. I nostri license partner di Milano stanno cercando 40 nuovi agenti sia per la divisione residenziale ma anche per il settore commerciale. Sicuramente Petra ci spiegherà in dettaglio come si svolgerà questo evento e quale profilo anche degli agenti. Bene, bene. Allora, Petra Magaglio, da te vogliamo sapere poche cose semplici. Intanto, chi sei? Cosa stai facendo su Milano? Ok. E questa è la prima partita. E poi, cosa stai cercando e soprattutto quando? Quindi, insomma, sviluppa un po' questo tema. Perfetto. Allora, io mi presento. Io sono license partner di Milano dal 2009. Come ha detto Christophe, anche le Folkes in continua crescita, anche noi a Milano siamo cresciuti. Attualmente abbiamo quattro show presidenziali, un ufficio che si occupa solo della divisione commerciale. Totale 45 consulenti immobiliari. Per 2017 abbiamo tanti nuovi progetti. Adesso non voglio anticipare quello che verrà presentato ufficialmente. Le sorprese sono il giorno 16. 16 marzo a Hotel Marriott di Milano. Anticipo solo che non vorremmo aumentare il numero di shop a Milano. Vorremmo rafforzare il nostro team e razionalizzare la nostra struttura interna. Per quanto riguarda divisione commerciale vorremmo aggiungere altri settori e per quanto riguarda residenziale vorremmo implementare la quota del mercato milanese. Che tipo di agenti immobiliari state cercando? Allora, come lo vogliamo? Allora, come lo vogliamo? Come lo vogliamo? Alto bello con gli occhi azzurri, come tutti quelli che lavorano. Biondo. Anche biondo. Io infatti non ho visto che non mando neanche il curriculum. Allora, nostri consulenti, non c'è un profilo ideale perché devono ricoprire vari ruoli. Però il nostro candidato ideale dovrebbe avere capacità imprenditoriale soprattutto, capacità di comunicazione, capacità di relazione, preferibilmente milanese, con esperienza sul mercato milanese, con l'esperienza del settore e preferibilmente anche con il track record profittevole. Certo, quindi lo vogliamo con esperienza e quindi con capacità relazionale. Sicuramente Milano, sono sicuro che vi darà soddisfazione da questo punto di vista. Che tipo di offerta possiamo fare? Quali sono i vantaggi che un agente immobiliare di questo tipo può riscontrare venendo a lavorare con voi? Allora, i vantaggi sono tanti. Allora, primo vantaggio sicuramente il marchio, il marchio globale di pregio conosciuto. Network internazionale che dà opportunità di una vendita illimitata grazie al nostro sistema di referral. Poi trasversalità nei settori aziendali che permette anche di dare un grande valore aggiunto ai nostri clienti. Un altro vantaggio è un corporate identity. L'altro vantaggio è la nostra accademia interna, quindi i corsi di formazione continui, organizzati sia da casa madre oppure organizzati direttamente da noi, che sono corsi di aggiornamento. Inoltre, invitiamo all'interno dei nostri shop, dei professionisti di settore, che ci danno dei aggiornamenti sulle nuove leggi. Per esempio, adesso a settembre è uscita la legge della stabilità. Quindi, questo per quanto riguarda la formazione. Inoltre, anche una piattaforma tecnologica innovativa. Abbiamo un nostro CRM interno, che è un strumento di broccheraggio, di amministrazione degli immobili, quindi un strumento utile per consulenti che possono gestirlo con un semplice login da qualsiasi dispositivo mobile, da qualsiasi parte del mondo. Offriamo anche varie applicazioni, tools, sia per garantire strumenti di marketing B2B, B2C, per la gestione di promozione degli immobili, per ogni singola agente, sistema intranet, insomma, tanto altro. Che ambiente trova l'agente immobiliare che viene a lavorare da voi? Perché sulla parte tecnologica, credo che non ci siano dubbi, sulla riconoscibilità di marchio, sulla formazione, assolutamente, sono capissari della vostra offerta. Che tipo di ambiente trova l'agente immobiliare che lavora con voi? Allora, ambiente giovane, dinamico, un ambiente dove si può confrontare, non è un ambiente competitivo, è un ambiente molto collaborativo, esatto. In più, quello che offriamo, vorrei aggiungere, è una crescita professionale, quindi essendo in continua evoluzione, avendo tanti progetti avanti, diamo opportunità di fare dei passi alla grande, quindi potere diventare office manager, di cambiare settori, di diventare da un consulente, di diventare project manager. Ma di crescere anche economicamente e professionalmente. Assolutamente, assolutamente. Allora, non ti farò domande sui piani provvigionali, perché so che li volete riservare all'evento, no? Ok, quindi questo evento si terrà il 16 marzo, e questo se lo ricordiamo, alle ore 18, se non sbaglio, al Medio Hotel di Viale Washington 66. Correto. Chi volesse a questo punto iscriversi, palesarsi attraverso un curriculum, può farlo seguendo le indicazioni che la regia manderà adesso in onda, quindi c'è una slide dove è indicato praticamente l'indirizzo web e anche l'indirizzo email dove andare a inserire, diciamo, il curriculum. Sono sicura che, Petra, cosa ti aspetti, allora, da quella serata? Allora, mi aspetto la presenza numerosa, tanti agenti immobiliari, tanti agenti immobiliari, mi aspetto di ricevere tanti curriculum, e mi aspetto di fissare dopo l'evento tanti incontri personali, diciamo. Non si può deludere Petra, non possiamo deludere Petra, quindi mandate il curriculum e partecipate a questo evento. Allora, direi, puntata a questo punto, la possiamo chiudere qui, ringrazio Christophe Feiken-Butz, Area Manager e Engadine Focus Italia, grazie mille per la tua disponibilità. Grazie, Ceraro. Petra, è stato un piacere conoscerti. Anche per me. Ringrazio Petra Magaglio, License Partner di Milano. Allora, vi aspettiamo quindi all'evento del 16 marzo, e mandate tanti curriculum. A presto. Grazie a tutti.